buongiorno a tutti saluto subito prima c'è tanta bella carnina al fuoco perché visto che ieri ci sono state le quattro partite di anticipo di serie a c'è stata la prova libera di formula 1 per decidere la griglia di partenza dell'ultimo gran premio non ne parlerò adesso vi dico solo che primo è bottas secondo che ha fatto la pool position secondo è emilton e terze vettel adesso a breve partiranno ma ne parleremo martedì invece oggi ho intenzione di parlarvi sia delle quattro partite di ieri sia della usci quindi partiamo subito con le quattro partite di ieri che naturalmente due le ho cannate in pieno e due le ho prese quelle cannate sono bologna sandoria 3 a 0 che nessuno si aspettava e la vittoria del verona sassuolo anche se bisogna dire che nella ripresa il bologna scusate il sassuolo ha messo sotto il verona il verona ha messo praticamente non il pullman 2 pullman la prima azione che ha fatto fuori dalla sua metà campo è stata intorno al quarantesimo però ha tenuto il 2 a 0 del primo tempo ha portato a caso a tre punti pesantissimi che adesso danno un bella boccatona di ossigeno ma veramente grossa pecchia ma nello stesso tempo mettono buchi in una situazione sicuramente non semplice perché adesso è lui che rischia l'esonero per quanto riguarda le altre due partite che invece ho preso chievo spalle finita 2 a 1 anche se temevo di sbagliare anche quella visto che la spal era in vantaggio poi il chievo con inglese gli ha dato appunto la lezione di inglese e vabbè hanno vinto 2 a 1 e questo chievo come dicevo già ieri nel girone di andata mette sempre tanti bei punti in cascina o in classifica come preferite e tranquillamente si salva perché ha 11 punti adesso sulla terz'ultima si trova a 20 punti si trova addirittura in questo momento milan deve ancora giocare con un punto sopra il milan e infine c'è stato cagliari inter solita inter tranquilla subisce primi 15 20 minuti e poi c'è il cobra c'è poco da fare abbiamo il cobra abbiamo il taipan e mi è piaciuto ieri quello che ha detto a danni lui sa 15 secondi prima doveva a finire la palla lui prevede il futuro perché se andiamo a vedere i due gol che ha fatto i cardi ieri sera si vede proprio che lui prevede perché lui si sposta prima azione cross di candreva lui non lo può raggiungere cosa fa si sposta fa quel passettino indietro e fa in modo di essere a distanza di sicurezza tra virgolette dai difensori che erano in quattro quelli del cagliari ieri davanti alla porta e lui si è trovato lì prego si accomodi l'ha appoggiata dentro secondo gol uguale cross basso deviazione lui si è spostato si è spostato si è messo in quella posizione lì e la palla gli è arrivata giusta lì e lui è riuscito a farla passare tra palo e difensore che gli veniva incontro cioè non è ronaldo lo sappiamo però il suo dovere lo fa anche ieri 3 a 1 bel gol di brosovic bel gol di pavoletti bisogna fare un applauso anche a pavoletti perché ha fatto veramente un bel gol che ha lasciato annichilito andanovic però alla fine 3 a 1 tre punti portati a casa siamo primi per poco è perché tanto oggi il napoli vince tranquillamente però siamo lì noi tanto come dice spalletti dobbiamo puntare al quarto posto quindi siamo secondi siamo già ampiamente oltre le previsioni quindi le quattro partite ve le ho più o meno raccontate pensiamo adesso allo sci partiamo con la discesa libera anche se c'è stato prima la gara femminile però prima i maschietti e poi le femminucce quindi maschietti ieri i nostri ragazzi in chiaroscuro perché Peterfield purtroppo è arrivato solo quarto perché ha fatto un errorino in un punto dove non lo doveva fare e quindi si deve accontentare nel quarto posto Dominique Paris quindicesimo e vabbè aspettiamolo nella prossima gara e Christophe Nerofe purtroppo è arrivato dopo il ventesimo posto primo è arrivato Feuz che è campione in carica perché ha vinto l'anno scorso in Svizzera l'anno scorso pochi mesi fa oramai perché lo sci sapete benissimo inizia a ottobre finisce a marzo più o meno marzo aprile e riparte poi subito a ottobre quindi le finali di Coppa del Mondo si svolgono sempre a fine anno a fine campionato quindi sei mesi fa era campione del mondo di discesa libera quindi non è una sorpresa lui primo secondo Svindal perché vabbè Svindal arriva perennemente tra i primi no scusate terzo Svindal e secondo Maier Christian Maier e dietro a file è arrivato Janslund che l'anno scorso ha battagliato con lui fino alla fine per la vittoria in Coppa del Mondo per quanto riguarda la disciplina della discesa libera alla fine la spuntata fila all'ultima gara e partire già davanti a Janslund anche se solo per un quarto o quinto posto è già buono veniamo alle donne le nostre ragazze nella prima manche di Gigante erano andate piuttosto bene perché avevamo Manuela Morga al terzo posto Federica Bilmione sesta, Marta Bassino settima, Sofia Goggia ottava e Rene Curtoni tredicesima purtroppo nella seconda manche la Curtoni, la Goggia e la Bassino hanno perso qualche posizione alla fine la Curtoni è arrivata a diciottesima la Sofia Goggia è arrivata a quindicesima e la Bassino è arrivata a dodicesima viceversa la Brignone se non avesse fatto quell'errorino maledetto perché lei non fa un errore perché lei parte a raffica potrebbe dare un secondo a tutte poi fa l'errore e perde mezzo secondo quindi alla fine la Brignone si è dovuta accontentare di un quinto posto comunque ha recuperato un posto sulla Vorlet che le stava davanti di appena 4 centesimi però non è riuscita a superare la Stefani Brunner che per soli 10 centesimi la è riuscita a prendere il quarto posto Manuelina Morga ha mantenuto il suo terzo posto è stata bravissima come è stata anche nella prima gara a Solden ma purtroppo davanti ci sono quei due mostri in senso sportivo fortissime che sono la Ravensburg e la Schifrin quindi la Ravensburg era prima alla fine della prima mancia è arrivata prima e la Schifrin è arrivata seconda abbastanza incavolata perché lei se non vince non è contenta comunque regola le nostre ci sono vedremo oggi nel gigante nello slalom speciale cosa combineranno però almeno nel gigante la valanga rosa c'è nello speciale vedremo come andrà ne parleremo magari lunedì o martedì intanto vi ringrazio vi saluto vi ho detto tutto spero che il mio canale vi piaccia e spero che vi iscriviate in tanti intanto ciao